Salve a tutti, sono Micweb e sono di nuovo qui per un nuovo tutorial di Wordpress. Oggi ci vediamo il menu punto impostazioni e vi spiego un attimino cosa si possono fare nelle impostazioni generali, questo si può cambiare il titolo del nostro Wordpress, lo slogan della nostra pagina, qui si può cambiare, come vedete cambio lo slogan, tutorial, il titolo della mia pagina, lo slogan Wordpress 4.3.1 tutorial, questo si può cambiare sempre, qui si possono cambiare gli indirizzi di Wordpress, qui non cambierei nulla l'indirizzo email, se avete un altro indirizzo email volete cambiarla, qui se qualcuno si può registrare viene predefinito il tipo di ruolo, nel mio caso nessuno si può registrare e quindi mi va bene così, fuso orario messo quello di Roma, formato di data, qui sono solo delle semplici impostazioni generali, appunto il formato dell'ora, quando devi cominciare la settimana, comincia la settimana, lingua del sito, l'ho messa in italiano, avrei potuto anche mettere un'altra lingua, ce ne sono tante a disposizione, ne ho scaricato quelle in inglese e quelle in italiano, salvo le modifiche, non dimenticate quando voi modificate qualcosa sempre di cambiare le modifiche, impostazione scrittura, qui posso prestabilire la categoria standard per gli articoli, qui anche un formato standard per gli articoli, non è niente di particolare, articolo via email, questo è interessante, se volete che articoli vengono mandati via email, qui potete utilizzare un servizio di posta, faccio un esempio, lo faccio a caso, non so se è proprio questo il servo di posta di google, in teoria è sempre smtp.googlemail.com, come dicevo è un esempio, non so se è veramente il servo di google, la porta 465, qui mettete il vostro indirizzo email di, in questo caso, google, io faccio un esempio, email.gmail.com, password, la password che avete scelto, in questo modo, quando mandate un articolo per email, viene mandato attraverso il servizio di posta di google, a questo punto possiamo anche salvare queste impostazioni, come vedete sono impostazioni generali, sinceramente io per esperienza le impostazioni generali non le ho mai toccate, solo per cambiare la lingua, siamo qui adesso, siamo in impostazioni di lettura, quante articoli devono essere visti pro pagina, se il tipo di sheet che deve essere generato, sono veramente impostazioni molto generali, sorvolo molto velocemente, giusto per farvi vedere tutti i menu di wordpress del dashboard, impostazioni di discussione, come vedete qui sono varie opzioni che ognuno può scegliere a seconda dei permessi, l'autore, l'indirizzo email, qualcuno inserisce un commento, se deve essere mandato via l'email, sono opzioni personali che ognuno deve sapere come vuole gestire il proprio wordpress, la propria pagina, quindi sorvolo molto questo a questo punto, qui sono per il tipo di commenti, se permettete commenti che genere di avatar o icona, volete che sia visualizzato, insomma, niente di così importante, andiamo qui al media, impostazione dei media, sono anche altre impostazioni interessanti, sono le dimensioni media dei file che si possono caricare, organizzare gli upload in cartelle, ha senso, adesso lo chiamo qui sui permalink, permalink secondo me è una questione importante, permalink servono per avere una buona visualizzazione su google e co, altre macchine di ricerca, motori di ricerca, in questo caso, nel mio caso, ho voluto data e nome come impostazione per il permalink, permalink servono in poche parole per avere una buona indicizzazione del sito, va bene, questo era tutto per questa volta, non mancate al prossimo tutorial, ci stiamo avvicinando verso Natale, il prossimo tutorial riguarderà proprio i template di Natale, ho scelto un paio di template che posterò sul prossimo tutorial, in modo che potete scaricarlo gratuitamente, vi raccomando, non mancate, prossimo tutorial, sempre domenica a mezzogiorno, ci vediamo alla prossima, ciao!